Ecco, azione di Gianluca, 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 incespica un po' Gianluca, ecco riprende la palla il capitano, Teddy, Mata, Teddy, Teddy, dentro l'aria, ancora un tripling di Teddy, calcio di rigore, calcio di rigore per atterramento di Teddy, Mata, gli hanno agganciato il piede. L'arbitro ha visto bene, calcio di rigore per la Virtus Castelfrendano, fallo sul nostro capitano numero 11, Teddy, Mata, sul dischetto c'è Michele, pitbull sul dischetto, tranquillo pitbull. Viete, avete, ha segnato, ha segnato Lorenzo Cuniberti, l'addoppio della Virtus Castelfrendano contro il Miglianico Calcio. Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni!